ciao sei pronto a divertirti stiamo entrando nella nostra foresta buia ti occorrerà un fazzoletto o foulard per bendare gli occhi del tuo compagno di gioco e tanta tanta fantasia nostra foresta buia sarà tutta la nostra casa immaginiamo che qua abbiamo la nostra cucina il bagno la sua cameretta della camera tutto qua abbiamo il nostro soggiorno partiamo dal nostro soggiorno sarai la guida insieme a te ci sarà un altro personaggio che invece sarà al lui cosa vuol dire che sarà bendato nella nostra foresta dovrai guidare il tuo compagno bendato portandolo solamente attraverso la voce e attraverso dei comandi gira destra gira sinistra all'interno di una stanza che vorrai tu arrivato in una stanza chiederai bene siamo nella nostra foresta ma dove siamo il tuo amico vendato chi sarà il mio dirà siamo in cucina e da 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 sbagliato siamo in bagno bene ora è il tuo turno sarai tu al buio quindi vendato sarai tu al buio quindi vendato e la guida sarà il nostro personaggio arancione prima variante l'usignolo cosa cambia potrai usare solamente per guidare il tuo compagno un rischio o un leggero suono lui quindi dovrà seguire il tuo suono seconda variante gli alberi dispettosi inserisci sul percorso del tuo compagno alcuni ostacoli potranno essere delle scatole potranno essere delle pentole inserisci quello che vuoi guida quindi il tuo personaggio vendato dove vorrai facendogli oltrepassare gli ostacoli bene buon divertimento con la foresta buia attraverso il tuo mani